La gestione del rischio nell'azienda del sistema paese, evoluzioni ai tempi di cyber security e intelligenza artificiale, questo è il titolo del convegno andato in scena a Roma, Palazzo Giustiniani, un evento legato a tematiche di stretta attualità e organizzato su iniziativa della senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. Abbiamo pensato che fosse importante mettere insieme in questo convegno attori della pubblica amministrazione, dal direttore della Polizia Postale ad altre persone esperte, in particolar modo nella sicurezza cibernetica e quindi nella protezione della nostra pubblica amministrazione con anche esperti di cyber security aziendale, perché il rischio degli attacchi informatici è un rischio che oggi coinvolge il sistema paese e il sistema Italia nel suo insieme perché è una minaccia che deve vedere unite sia la pubblica amministrazione sia il privato nella consapevolezza e nell'organizzazione di una rete di protezione che è una premessa fondamentale nello scenario odierno, non solo per la sicurezza ma per la prosperità di una nazione. Diversi relatori intervenuti presso la Sala Zuccari nel corso di una tavola rotonda moderata da Ruggero Parrotto, direttore generale della Fondazione Quotarella ed esperto di comunicazione e negoziazione, a prendere la parola tra gli altri il direttore della Polizia Postale e delle comunicazioni Ivano Gabrielli e Williams Nonnis, analista in materia di digitalizzazione e innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione PNRR. Secondo gli esperti di strada da fare ce n'è ancora molta perché si stima che in futuro saranno sempre più frequenti gli attacchi pianificati dalla criminalità organizzata, nemico numero uno quando si parla di cyber security, opportuno quindi che le istituzioni si facciano trovare pronte e che a breve si riesca soprattutto a garantire una formazione quanto più completa e veloce.